Allora Luigi, tu mi sai spiegare meglio cos'è il bastone e cos'è il vincastro, cioè perché un pastore ha due diversi tipi di bastone e il Salmo riprende queste due parole? Allora, il bastone serve per difendere dall'aggressione, diciamo, cioè da mattare qualcuno. E com'è fatto il bastone? Con la parocla, diciamo, una che si mette a braccio, ma... Anche se uno si vuole appoggiare, serve anche per quello, però serve per difendere il greggio da un lupo, da una volpe, da... E invece il vincastro va a cavallo con il vincastro, o il dirige, o il destro sinistro, o la secco, non da picchiare proprio forte, cioè, serve cose leggere. Per indirizzare un animale, quindi non per fargli male, ma gli dai... E com'è fatto questo vincastro? Eh, uno... Invece il bastone è bello, massiccio, grosso, e quello è fino. È fino. Fatto con tante foglie anche? No, dipende... O di orno, o di salice, o qualche... Anche di salice, ho capito. E tu li usi quando fai la transumanza? Eh, diciamo, io uso il bastone per... Per la transumanza. Per la transumanza. Sì. E quanti giorni ci metti a fare la transumanza? Tu vai da Oppido fino a... Da Tolve fino a... Partiamo da Oppido, vado tre giorni. Tre giorni. A tappa a tappa, quando sale che ci sono i vitelli piccolini. Invece quando scendo due giorni. Due giorni. E passi per Potenza? E passo per Potenza. In centro città? No, in periferia, via del Basento. E costeggia il viale del Basento e... E se vai. E la spigno va. E dicevi c'è qualche ragazzo stupido che ride? Eh... Si trova di tutti i colori. Di tutti i colori si trovano, insomma. C'è che... Diciamo, la maggior parte... Diciamo, quello 1% che è stupido. Che non capisce che è il tuo lavoro, che è una cosa che si fa così, che è la cosa buona da fare. Bisogna aspettare, da spazio, diciamo, gli animali. Dopo ci sono parecchi minuti, non è che ringastrisce la strada. Ti mettono una piazza, affilino indiano e se ne va. E attraversi la poiferia di Potenza, insomma. Grazie Luigi anche di quest'altra cosa, che ci hai spiegato il Salmo, il tuo bastone, il tuo vincastro, mi danno sicurezza. Uno serve per difetto. Quando uso il cavallo, invece di portare il bastone, che è più pesante, più scomodo, uso il vinghietto. Vinghietto si chiama, vinghietto, vinghietto. No, in dialetto. Quindi il bastone difende, il vincastro, vinghietto indirizza, aiuta a seguire la direzione giusta dove bisogna arrivare, dove c'è il pascolo. Grazie. Grazie.